Musica Vede che sigla il nostro ospite, vedo che l'altro studio la guarda un po', dice che dove sono capitato, che sigla è, si può dire, poi adesso le dico anche perché insomma qualcuno diceva ancora questi titoli, però lo dobbiamo presentare almeno in prima battuta così conosciuto meglio come il principe Domenico Orsini, buongiorno Orsini, ben trovato. Buongiorno, grazie, grazie per avermi invitato soprattutto. Beh insomma saranno, adesso non ce ne voglia, ma certamente tutti sanno, tantissimi, che si ricandida Alemanno, che si candida adesso Ignazio Marino, c'è stato anche questo momento di primarie, meno conoscono gli outsider, lei si considera un outsider, però a volontà, io ho letto alcune cose, dice proprio perché sono romano, figuriamoci, la famiglia Orsini adesso magari ci arriviamo, la storia di Roma l'ha fatta, quindi per questo lei oggi vorrebbe arrivare addirittura al Campidoglio? Vorrei arrivare al Campidoglio per questo, ma anche perché sono romano di nascita, ho vissuto romano, ho vissuto a Roma, ho fatto i miei studi a Roma e amo la mia città come, forse come essere la più bella delle donne. Però insomma da sempre, la nobiltà, ecco, ha avuto referenti politici, insomma voglio dire dialogo con amministratori, esponenti di partito, cioè voglio dire questa sua candidatura ci deve far pensare che lei al momento non ha trovato nessuna sponda per quelli che possono essere i suoi temi, né in Alemanno, né nella sinistra, né nel centro, né moderati, chi vuole lei? Cioè è il momento di scendere in campo di persona? È il momento di scendere in piazza più che in campo, in campo facciamo scendere altre persone, bisogna scendere in piazza, io non ho cercato assolutamente nessun partito, vorrei essere un sindaco dei Romani, risolvere i problemi che sono risolvibili dei Romani e della città di Roma. La politica non mi interessa, l'ho fatta per tanti anni al lato, ho visto che non mi ha dato nessuna soddisfazione e da qualche periodo a questa parte credo che la politica stia facendo degli errori enormi, sia in ambito nazionale che in ambito cittadino. Il movimento con cui si presenta si chiama proprio Progetto Italia, esprime soltanto la vostra candidatura o altre? No, 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 Progetto Italia è una piattaforma multimediale che noi abbiamo messo a disposizione del cittadino per fare in modo che il cittadino dica quello che pensa e quello che vorrebbe e quali sono le sue proposte. Sono loro che comandano noi, non noi che comandiamo loro. Faccio vedere anche il sito della fondazione, giusto? Sì, grazie. Quindi sono i cittadini insomma che... Sono i cittadini, loro devono dire che cosa non vada, io posso sapere che cosa penso che non vada, anche perché il Comune di Roma ha molti problemi per una città come Roma, che è la città più bella del mondo, che però rimane, non è ancora arrivata ad essere una metropole. No, mi sono sbagliato sul sito, adesso ero andato in un'altra parte, non so se l'avete ma poi lo cerchiamo nella pausa. Le chiedo una cosa molto secca, faccio un po' l'avvocato del diavolo, la pungolo, lo faccio poi, spero con ogni interlocutore, con ogni candidato, pochi giorni fa, addirittura col sindaco, abbiamo tentato così, poi bisogna sempre essere cauti, soprattutto con i politici, in realtà poi gli outsider sono molto più schietti e disponibili, però noi ogni giorno in questa trasmissione in particolare, caro Orsini, sentiamo tante persone comuni della strada, gente che fatica a arrivare alla fine del mese, che ci chiama quasi disperata in molti casi perché hanno problemi di casa, di sfratti, di soldi, di sopravvivenza, allora molti adesso a casa saranno dicendo ma che ne sa il principe Orsini dei problemi, vede già l'ho fatta sindaco, che ne sa il principe Orsini dei problemi reali della città, delle buche, delle periferie, del degrado, io gliela pongo credo a nome di molti per darle la possibilità di dire perché, insomma lei cosa conosce di questi problemi reali? Guardi io conosco questi problemi reali forse un po' meglio di questi altri personaggi, sono andati in giro, molti amici che stanno in periferia, vado quasi tutti i giorni in periferia per guardare, senza farmi notare, per guardare quelli che sono i problemi della periferia, i problemi della periferia di Roma sono problemi estremamente gravi e la prima cosa che bisogna fare è la riqualificazione delle periferie romane, anche se per riqualificare le periferie romane bisogna anche riqualificare il centro di Roma, che è il nostro petrolio che ci darà i mezzi per poter e dover riqualificare le periferie romane. Le conosco bene, non sono una persona che è sempre stata ricca, non sono una persona che è sempre stata povera, sono una persona che ha cominciato a lavorare a 14 anni e sa benissimo come si deve e si può guadagnare la vita, ho avuto molte difficoltà anche personalmente, anche difficoltà di danaro, con molta volontà me ne sono uscito, ma conosco i problemi, i problemi parliamo oggi di 100, 200, 300, 600, il problema oggi non è mensile, è giornaliero, giornaliero dei 10, dei 15, dei 5 euro, quindi il problema di Roma comune è molto più grande, però questo ne parlerò se lei mi farà delle domande. Come no, abbiamo tempo e invito i telespettatori a chiamare, a telefonare, a fare domande, curiosità, insomma a chiedere anche che proposte vuol realizzare, Orsini 06 59 10 285. A lei piace essere chiamato principe, a lei non piace perché insomma seguendo la Costituzione repubblicana dovremmo anche evitare questi termini, dopodiché c'è una storia, allora ognuno poi, lei che preferisce? Io preferisco essere chiamato Domenico, anche se io... Questo lo dice non con falsa modezza, lo dice sinceramente... Guardi, guardi, io le racconto questo... Me lo racconti, ci racconti quello che vuole, aneddoti anche... Di solito quando si va in un ristorante diciamo alla moda, non c'è mai posto, e qualcuno mi dice ma dai, dica se sei il principazione... Eh, certo... Io non ce la faccio, e più forte di me infatti faccio telefonare mia moglie... Che si presenta non come principessa... No, che non si presenta, dice che è la mia segretaria, anche perché mia moglie è francese, quindi con questo accento un po' ha un accento francese-romanesco, perché io purtroppo sono riuscito anche a parlare francese con un accento romanesco, per cui i francesi non capiscono niente... Se vuoi dirci qualcos'altro sulla sua famiglia, sull'aspetto privato, quello che vuole, adesso a me poi non piace neanche insistere, però quello che vuole, per descriversi ai potenziali elettori, insomma ai cittadini di Roma. La mia famiglia è una famiglia... Quella attuale, e poi andiamo alla storia degli Orsini che è talmente prestigiosa, hanno espresso due papi, basterebbe dire questo. No, no, me ne ha tolto uno di papi. Ah, sono tre? Cominciamo già a togliere. Ah, sono tre? Sono tre più un altro che era... Questo però dopo la pubblicità, perché è appassionante, a me appassiona molto personalmente. Io dicevo invece, Domenico Orsini oggi, che storia ha alle spalle e anche privata? Domenico Orsini è nato l'11 aprile, quindi domani del 1948, ha fatto il liceo classico, ha avuto la maturità classica, ripetuta due volte, perché la prima volta mi hanno bocciato perché ho tirato il tavolo addosso al professore. Ah, addirittura? Sì, perché mi aveva fatto una domanda molto personale che non era il caso che mi facesse. Caspita. Molto personale perché, ma qui andiamo in una storia che sarebbe lunga mio padre. Ma sempre perché lei era principe, cioè questo professore era... Perché ero figlio di mio padre, figlio di mio padre, sono figlio di un personaggio che si chiamava Filippo Orsini, della Dolce Vida, che ci ha lasciato quando avevo dieci anni, perché è partito con un'attrice che si chiamava Belinda Lì e siamo andati su tutti i giornali nel mondo. Quindi questo qui mi ha detto se ero il figlio del playboy. Io che stavo lì dalle sette, erano le tredici, che stavo già come sto oggi, un po' nervoso. Ci mancherebbe. E ho prenotato lì, mi sono fatto degli studi di giurisprudenza, sono arrivato fino ad avere solamente un esame da fare, poi anche lì c'è stato un altro piccolo incidente, per cui sono partito a lavorare a Milano da un signore che si chiamava Aldo Ravelli, che era un grande agente di borsa. Ho fatto la mia scuola reale lì, ma durante le vacanze, quando ero piccolo, mio nonno mi metteva a lavorare durante le vacanze nella sua fabbrica che aveva in una piccola città del nord che si chiama Pernumia e andavo a lavorare lì durante le vacanze per guadagnarmi qualche cosa e questo mi ha servito molto perché io vivevo con la gente lì, tant'è vero che non volevo mai tornare a casa durante le ore di pausa perché stavo bene con loro, mi sentivo proprio a mio agio. Io mi sono sempre sentito a mio agio con tutti, ogni tanto mi sento in difficoltà, però quando sto nel mio ambiente purtroppo. Quindi si è occupato di finanza in particolare? Mi sono occupato di finanza fino a quando sono andato a Parigi a fare uno stage, lì ho conosciuto una signora che si chiamava Martin Bernheim e mi sono innamorato e l'ho sposata, anche se conoscevo suo padre e sua madre molto prima, che mi legava alle assicurazioni generali di Venezia di cui la parte materna della mia famiglia era legata, essendo uno dei fondatori. Torno un attimo alla politica, poi andiamo nella pausa, chi l'ha, ve la metto così, insomma non so, magari non è detto che tutti l'abbiano delusa, ma tra Rutelli, poi Veltroni e Alemanno di oggi, chi l'ha delusa di più? Se vedo tutti e tre, vediamo il bilancio di oggi, ha ragione Gianni Alemanno quando dice che ha ereditato qualche cosa, è vero, ma è vero che Veltroni l'ha ereditata ed è vero che il problema finanziario del Comune di Roma, poi ne parleremo, è enorme ma è risolvibile, ed è risolvibile non come hanno fatto loro. Quindi da questo punto di vista, cioè diciamo il buco enorme oggi poteva essere evitato con altre strategie, lei sta dicendo diverse. Poteva essere evitato senza andare a cadere sui derivati, che io sono dieci anni che dico che è una cosa che non si capisce che cosa sia, e il grosso guadagno fa in modo che la gente sia attratta, ma è un imbroglio, anche se ci sono dei derivati che sono buoni. Bisognerà vedere quali sono i derivati del Comune di Roma, quando mi dicono ma si può vedere il bilancio, io ho letto bilanci fino a qualche anno fa, i bilanci sono il gioco delle tre carte, se no andiamo a finire come Montepaschi insieme. Allora, dopo la pubblicità, tra pochissimo ci dice la sua ricetta, perché quel sindaco Alemanno qui pochi giorni fa ha detto siamo messi così, ad oggi non riusciamo neanche a tappare le buche, a meno che, perché questo intendeva dire il sindaco, non c'è un intervento forte del governo, non si può, così diceva, strangolare una città imputando tutto questo poi al patto di stabilità e quant'altro. Quindi le ricette finanziarie e poi andiamo anche sugli altri temi con Domenico Orsini o Principe Orsini dopo la pubblicità. Torniamo tra un attimo, grazie. Ben tornati in diretta, allora Domenico Orsini dicevamo le ricette finanziarie, insomma questo sarà evidentemente per chi andrà a governare Roma o chi tornerà, come potrebbe essere il sindaco stesso, il punto da cui partire. Il sindaco l'altra volta ricordava come questa amministrazione è riuscita a, lui dicevano ad annullare almeno 3 miliardi di debito, su un totale però più ampio sui 10, poi li ballano sempre un po' le cifre. Quindi da dove partirebbe lei? Io partirei innanzitutto dalla casa e dal lavoro, dal lavoro e dalla casa perché se uno non ha lavoro non può avere la casa. Il comune di Roma, quando lei prima mi ha detto che il sindaco ha dichiarato che ci deve essere un intervento dello Stato, lo Stato non può intervenire perché non ha soldi. L'ultimo errore che è stato fatto sono questi famosi 40 miliardi in cui ha creato un debito su un debito ancora. Quindi praticamente lo Stato italiano ha preso un derivato e ha fatto un derivato sullo Stato, per cui una grande banca d'affari comprerà questi 40 miliardi e poi l'Italia andrà in default. Che cosa vuol dire? Che quando questi pezzi di carta emessi dallo Stato italiano non saranno pagati, saranno riscossi e noi non avremo i soldi. Quindi sarebbe giustissimo, ma è inutile sperare nello Stato italiano. che ci aiuti. La casa e il lavoro, riqualificazione delle immensi appartamenti che sono lasciati liberi e che sono stati fatti da questi imprenditori immobiliari, una volta si chiamavano parazzinari, adesso si chiamano imprenditori immobiliari, i quali continuano a costruire su case che ci sono già. Quindi è inutile, bisogna occupare queste case, bisogna occuparle. Come? Dando la possibilità al cittadino di pagare il contratto affitto. Dice, ma non abbiamo lavoro. È vero. Il Comune di Roma non può creare lavoro. Non è vero. Il Comune di Roma ha donato tante consulenze, non impiegando coloro che lavoravano all'interno. Quindi l'abolizione immediata di tutte le consulenze. Assolutamente il Comune di Roma può fare tutto il lavoro da solo con gli impiegati che ci sono. Comunque l'imprenditore, il ricco romano deve aiutare il Comune di Roma attraverso che cosa? L'imprenditore edile attraverso la riqualificazione degli immobili che ha fatto e che sono stati fatti in una maniera non ordinata. Andare verso il verde, verso l'ecologico per risparmiare. Quindi possiamo avere il lavoro. Il lavoro dobbiamo crearlo noi. Il Comune di Roma può, assolutamente. Perché noi abbiamo il petrolio a Roma. Noi abbiamo la nostra storia. Noi vediamo Roma crollare totalmente. Noi vediamo tutto quello che è il petrolio romano che sta accadendo. A cosa si riferisce in particolare anche a un livello, diciamo così, estetico, monumentale? La cultura, la nostra cultura. Riqualifichiamo il Colosseo, riqualifichiamo il mausolio di Augusto. Tutto sta accadendo. Tutto sta accadendo. Però ecco, sulla casa, che è un tema forte di ogni campagna elettorale, sappiamo che a Roma non si costruiscono case popolari da una vita, si assegnano qualche centinaio di case, ecco, in cinque anni. Sembra facile, c'è anche il ragionamento che le fa. Aspetti, ma non il suo, non ce l'ha quella. Anche il candidato Marino che ha appena vinto le primarie dice prendiamo le case sfitte, ma questo lo diciamo, insomma, lo sentiamo dire. Poi c'è la realtà, la realtà è molto più complicata, ci sono i palazzinari che le dice che guardano la pecunia, no? Più che a fare del bene probabilmente alla città. Cioè, nel senso, prima la pecunia, perché giustamente, legittimamente, quindi pare che poi alla fine, dopo finita la campagna elettorale, sentiti tanti libri dei sogni, dopo la realtà è dura e non se ne esce. Io lo dico, no? Per contestualizzare un po'. Che cosa ne pensi? Sono perfettamente d'accordo. Dobbiamo pensare meno alla pecunia. Questi signori devono pensare di meno alla pecunia. Devono aiutare la gente a trovare la casa. E anche a titolo gratuito. Che si mettano in testa che devono dare le case. E la mia non è una propaganda elettorale. Perché se non sarò eletto sindaco, se non sarò eletto neanche consigliere, mi batterò lo stesso con il mio movimento per questo. Perché è inutile tassare questi signori e poi chissà dove vanno questi soldi. Questi signori devono aiutare il cittadino a fare questo. Non ci riuscirò come sindaco perché non sarò eletto? Non ci riuscirò come consigliere perché non sarò eletto? Tutto quello che volete. Probabilmente prenderò neanche il mio voto perché io non mi voterò personalmente. Mi batterò con Progetto Italia per fare questo. Perché ecco dove il ricco deve mettere a disposizione il suo lavoro per la casa. Qui manchiamo di case. Nel senso che le case ci sono e non vengono date. E poi quando ce l'abbiamo abbiamo pure un'imula più alta d'Italia come aliquota sulla prima e la seconda. Sentiamo qualche telespettatore Orsini che è interessante anche quello che la gente seguendola magari la vorrebbe chiederle. Tra un attimo quando è pronto ditemelo io faccio vedere anche il logo di Progetto Italia che è questo qui che accompagnerà la sua campagna. Lei quindi dice anche a fare il consiglio comunale. Io sono motivato anche ad andare nel lagone dell'aula Giulio Cesare. Io sono il prenoto di andare nel lagone della piazza. Con il mio Progetto Italia io andrò se sarò consigliere, se non sarò consigliere, se sarò sindaco, se non sarò sindaco come privato cittadino. Mi metto a disposizione. Ma lo farò veramente. Non è una propaganda questa che fa. No, no, ma si capisce la sua... è molto arrabbiato e dice è ora di prendere noi delle iniziative. Sentiamo da casa che cosa vorrebbero chiedere. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, prego, faccia la domanda. Sì, sono Alberto. Dunque, volevo chiedere al concittadino Orsini, visto che non vuole essere chiamato... vi volevo chiedere se conosce i quartieri Torbella, Monaca, Laurentino, Corviale, che sono quartieri fortemente disagiati, dove c'è poco lavoro, ci sono problemi sociali enormi, gente veramente povera, c'è gente povera. Io ho visto, per esempio, la povertà in molte case. Ecco. Grazie Alberto, grazie. E torniamo un po' alla domanda che facevo io, ma rafforzata. Noi siamo a livello che vediamo proprio gente povera, che non ce la fa più, e lo sappiamo. Esiste veramente la povertà? Un attimo che non lo sentiamo, allora un attimo solo, rimettiamo un momento a posto il collegamento. Mi senti? Intanto, io prima, no, prendo tempo, era un'agenzia, una DN Cronos, che mi ha indotto in errore, poi ditemi quando è pronto di nuovo l'audio, che diceva la famiglia Orsini è una tra le più antiche famiglie della nobiltà romana, che annovera nel suo albero genealogico due papi, Nicolò III, ovvero Giovanni Gaetano Orsini e Benedetto XIII, Pietro Francesco Orsini e 34 cardinali. Adesso allora me lo correggerà Orsini. Sì, sì, guardi, sono tre papi, uno è Celestino I, che si chiamava De Bobonis, dove da noi discendiamo. E poi abbiamo un papa che è il papa Medici, in quanto era figlio di una Orsini, perché Lorenzo il Magnifico ha sposato una Orsini. Adesso le chiedo, ci dice anche altro, è molto interessante, però la domanda del signore è molto meno... La domanda del signore, il signore ha perfettamente ragione. Io ho frequentato, sono andato, ma anche in passato, non adesso, in passato, ho frequentato anche San Basilio, ho frequentato, ho fatto il militare nel lontano 74, sulla Laurentina, lì a, come si chiama? Alla Cecchignola, ho fatto il militare lì. A Tor della Monaca, sono vent'anni che vado a Tor della Monaca e ho dei carissimi, ho una carissima amica mia, che si occuperà della mia campagna elettorale, proprio a Tor della Monaca. Conosco il Torrino, sono andato e ho visto, e ho visto questa gente, ho visto, sono andato con loro. Io lo dico qui, io a un certo momento, quando ho mandato il diavolo a mia famiglia di provenienza e quello che avevo sposato, ho dormito sotto i ponti, perché non avevo i soldi. So benissimo che cos'è, e non è propaganda. E continuo a dirlo. Io sono arrabbiato con loro, ma questo signore ha perfettamente ragione e io mi adopererò per fare questo. Lo farò, lo farò, lo farò. Le chiedo un'altra, no, torniamo allora a questa vicenda, anche se lei ha appena detto, insomma, io ho rotto con la famiglia, ho avuto una vita. Avevo rotto. Avevo rotto. Sono tornato, dalla moglie, ho festeggiato i 36 anni di matrimonio. Però, diciamo, con quella, anche quella ricchezza, quella nobiltà, lei ci sta facendo capire questo, insomma, si è ricostruito una vita da solo, insomma, addirittura dice ha dormito sotto i ponti, io questo per carità, però, insomma. No, guardi, io ero vestito con questo vestito. Quanti anni fa questo? Questo è successo otto anni fa. E il barbone che mi ha detto, mi ha fatto vedere una cosa magnifica. Mi ha detto, ha sorpreso, hai mandato, dico sì, dice, e c'hai fame, e c'ho fame sì. Dice, allora ti faccio vedere il miracolo, lo vedi sto piatto di pasta? Dico, ora sono diventati due piatti di pasta. Quindi ha trovato anche una umanità, insomma, all'interno di questo mondo, semmai, completamente diverso. Però lei è fiero di queste sue origini, oppure no? Penso di sì. Io sono fierissimo di queste mie origini. Sa, la mia famiglia è sempre stata in mezzo alla gente. Se qualcuno si ricorda qualche storia romana, la rivoluzione di Colali di Rienzo, l'abbiamo fiancheggiata e finanziata. Poi ci abbiamo perso, però, insomma. Perché con la di Rienzo è stata sconfitta, però. Da sempre i guelfi, insomma, contro i colonna. Contro i colonna, colonna era popolo, dicevano, noi siamo chiesa. E invece? Non era proprio così? Non lo so, non voglio... Senta, ma questo Papa nuovo, nuovo veramente in tutto, sembrerebbe? Insomma, c'è un entusiasmo diffuso. Lei come l'ha visto, a proposito? Questo Papa sarà stupendo. Io sono un pochino... voglio essere un pochino reale. Lasciamogli passare il primo periodo di ambientazione, perché Roma e i romani, noi siamo molto difficili. È venuto verso di noi. Noi vogliamo andare, spero, vorremmo e andremo verso di lui. Sarà umile, ma sarà... è un gesuita. Quindi io ho studiato dei gesuiti anche. Quindi sarà un uomo molto duro, però cercherà di stringere all'interno della Chiesa quelli che sono i peccati di coloro che formano la Chiesa, perché ci sono dei problemi a livello di certi sacerdoti, che sono comunque uomini, bisogna ricordarsi, bisogna uomini. E credo che riporterà una bella soluzione, porterà anche una bella soluzione dal punto di vista di questa banca che si chiama Istituto di Opre e di Regione. La Chiesa dovrebbe pagarla l'Imu, secondo lei, Orsini? Una parte senza dubbio. E noi potremmo pagare sull'immobile romani, se la pagasse al Comune di Roma potremmo pagare una parte di deficit. Ebbè, se andassimo a vedere tutto quello che poi davvero è anche commerciale, questo lo dicono i radicali, ma ti dà una vita. Sto senza dubbio. Ma sa, Limo è una di quelle... mi dica come fa un cittadino che ha lavorato tutta la vita, che ha messo da parte i soldi, che si è comprata una casa, che paga le rate del buto a pagare anche Limo. Limo lo facciamolo a pagare la gente ricca. Dico, io ho pagato con mio fratello Limo. Lei conosce i municipi, ha seguito questa riforma che porta da 19 a 15 municipi, adesso ci sono state anche le primarie addirittura lì, c'è un meccanismo a Roma che da sempre si parla di decentramento, che poi non si è mai realizzato, l'area metropolitana che arriverà, e intanto c'è in pratica un Campidoglio, ma lo era anche prima, con Veltroni Corutelli, insomma, assolutamente che determina, poi decide dove mettere i soldi e dei municipi sono in prima linea, ma hanno pochi poteri. È d'accordo su questo? La sua idea di città organizzativa sarebbe diversa? Io sono stato consigliere della prima circoscrizione del 1996. Fare quello che ha detto prima lei sarà difficilissimo, però bisogna iniziare a farlo, perché se no non si farà mai, si faranno sempre progetti, si parlerà sempre a vuoto e non si farà mai. Qualche volta bisogna copiare, non bisogna avere idee nuove, bisogna copiare e immettere queste cose, queste idee, questi progetti, nella nostra città. La nostra città è la più difficile del mondo. Parigi funziona, i nostri municipi non funzionano, ma non funzionano anche perché il municipio centrale, il Campidoglio, ci prende tutti i soldi. Esatto. Che esperienza è stata quella in circoscrizione prima, allora, poi il municipio? Stupenda, stupenda. Cioè non si è sentito un po' inutile, come qualcuno dice? Totalmente inutile. Però bella uguale, perché? Bella uguale, perché quando a un certo momento sono stato, per un anno e mezzo, sono stato assessore al commercio, mi hanno massacrato. Quando c'è stato il primo Gay Pride, ho fatto una delle mie famose dichiarazioni dicendo che io ero un gay virtuale. Che ero un? Ero un gay virtuale. Ah. Cioè ero accanto ai gay. Aha. Ma questo, non confondiamoci. Però su questo tema, che ha molte appassioni, insomma, etico, di famiglia, che cosa pensa? Quale problema? No, no, delle coppie di fatto, delle unioni di fatto, della possibilità di doni dei figli. Guardi, io sono molto chiaro, io sono cattolico apostolico romano, come direbbe un principe romano, non vorrei e non vorrei che si offendessero, io non vorrei parlare di matrimonio, però l'unione deve essere regolata, non c'è niente da fare. Con tutti i diritti che dovrebbero conseglierne. Con tutti i diritti. Regolando, ma dobbiamo regolare anche le unioni di fatto tra uomo e donna. Allora, invece, beh certo, le convivenze, certo. E invece, torniamo a temi più caldi, no? I trasporti. Anche nelle primarie abbiamo sentito un po' cose varie, c'è chi ha detto rimettiamo i filobus, lei diceva copiare da altri, a volte anche da se stessi, dalla Roma... Dalla Roma antica. Antica, è d'accordo. Lei cosa farebbe come prima azione sui trasporti? Credo che il trasporto sia il problema... Tanto bisogna riqualificare quello che c'è. Perché quello che c'è, voglio dire, noi parliamo di metropolitana, ma vuol dire che non conosciamo le metropolitane degli altri paesi. Io a Roma giro a piedi o giro con la mia bicicletta. Loro mi diranno, sì, ma per andare a Torbella Monaco o per andare... Io con la bicicletta vado ovunque. Anche, primo, perché mi piace, secondo, perché mi piace Roma. La macchia la uso il meno possibile. Se devo prendere i trasporti ci prendono tre giorni. E allora, per lei è possibile che da Torbella Monaco uno arriva alla stazione, dopo 40 minuti se tutto va bene, dalla stazione deve andare a posto di lavoro quando non c'è lo sciopero, perché se no non arriva neanche alla stazione. Dice, come si fa? Bisogna ripensare tutto quanto. E non è vero che a Roma non si può fare la metropolitana. La metropolitana si può cominciare a costruire, a riqualificare quello che c'è, ma riqualificarla anche per i vagoni, per i trenini che ci sono. Abbiamo ancora dei vagoni del 1955. Altro tema, quello dei Roma. Adesso è riemerso per una polemica che non ci interessa in questo momento. Però l'esperienza dei campi nomadi, della, chiamiamola, riforma che poi ha fatto il sindaco Alemanno, rispetto all'amministrazione precedente, a quello che però oggi sappiamo e vediamo. Si insegue sempre un qualcosa che sfugge poi di mano. Ma ci sfugge di mano perché non la seguiamo, perché cerchiamo una soluzione, poi dicono la soluzione l'abbiamo data e poi non ci occupiamo più. E come quelle che si occupano delle periferie durante la campagna elettorale, vanno una volta e poi non ci tornano mai più. Il problema dei Roma è la stessa cosa. Questi sono esseri umani. Capisco che è un grosso problema per Roma, perché non bisogna fare di tutta un'erba un fascio, ci sono delle persone per bene, ci sono delle persone che non sono per bene, ci sono dei lati e ci sono delle persone onesti. Comunque sarebbe per i grandi campi, insomma, pochi e grandi attrezzati e controllati? E controllati, ecco, soprattutto controllati. Bisogna controllare, controllare i campi Roma come controllare i conti del comune. Quando lei annunciò la sua candidatura a febbraio, il fatto quotidiano, le fece un'intervista che ho recuperato, il principe Orsini si candida, Roma massone, più che altro amico. Siccome poi queste cose girano in rete, eccetera, eccetera, ci dice il suo rapporto con la massoneria, qual è? Se c'è o no? No, i rapporti con la massoneria italiana non ce ne sono, assolutamente. Io amo molto la filosofia massonica perché è la fraternità, è aiutare la gente. Non è assolutamente vero che la massoneria, almeno quella che considero io sia per fare carriera, non è vero che la massoneria, come la considero io, sia accanto alle banche d'affari, non è vero assolutamente niente. In Italia abbiamo rovinato tutto, la massoneria comunque ha fatto l'Unione d'Italia, la massoneria ce n'è del buono e del cattivo, io quella massoneria italiana sinceramente non la conosco più di tanto. In quell'intervista disse anche, mi pare, Licio Gelli, in realtà non è... Ma Licio Gelli io l'ho conosciuto perché in quel momento avevo fatto una delle mie tante stupidaggini, che avevo fatto una linea di moda, perché era una linea di moda, che si chiamava, l'aveva fatta la principessa Orsini, e lui l'era, ci incontrammo in un albergo a Firenze, io stavo da una parte, lui stava da un'altra, ci salutammo e lui mi disse, ma perché non ci vediamo così parliamo di questa linea di moda che fa? Di massoneria non abbiamo proprio parlato, sono andato, l'ho visto due volte, ma non l'ho mai negato perché quando sono andato ho dovuto dare il passaporto, la carta d'identità, la patente, non mi ricordo. Addirittura? Sì, perché restavano gli arresti domiciliari. Quindi era complicato. Era complicato, ma non ho potuto nasconderlo, ma non vedo per quale ragione dovevo nasconderlo. Bene, abbiamo spiegato anche questo, abbiamo pochi minuti, vorrei chiudere con un giochino, farle dare giudizi sugli altri candidati, quelli di cui si parla, però torno al mausoleo d'Augusto, visto che questa è una sua battaglia, in effetti questa storia del recupero del mausoleo di Piazza Augusto Imperatore, insomma anche qua, no? Invecchiamo piano piano con questo progetto. Che cos'è che non ha funzionato e che cosa andrebbe fatto adesso? Non so che cosa non ha funzionato, penso semplicemente che non si possono spendere 600 mila euro o non so quanto per far abbattere il muro dell'Arabacis, basterebbe prendere qualche cittadino un po' arrabbiato, che lo batterebbero in dieci minuti. Il mausoleo d'Augusto bisogna prenderlo e prendere sponsorizzazioni, gente, imprenditori che ci vogliono dare questo, noi lavoriamo, lo mettiamo, creiamo posti di lavoro, creiamo ricchezza perché la gente lo va a vedere. Oggi se lo vanno a vedere dicono Roma è un disastro, Roma è sempre sta Roma, è sta Roma, è sta Roma, è romano, con quelli del nord che dicono che non sappiamo fare niente, ma basta, che qui del nord pensassero... Però dal nord, questa è una critica, la prima che gli fanno, arriva Ignazio Marino, che ne pensa di Marino? Cioè che dicono è bravissimo, c'è questa opinione diffusa, però deriva da Genova, non neanche conosce Roma, sui social network c'è molta ironia. Ma è una persona per benissimo, senza dubbio, io non lo conosco e non mi sento di dare un giudizio. Credo che tutti i candidati dovrebbero cooperare tra di loro per salvare Roma, è inutile che io dico che il bilancio mi ha fatto male e io avrei fatto un'altra cosa. Ma è inutile, perché intanto non l'ho fatta e non c'era. Allora, di fronte a questo scaricabarile invece continuo tra i partiti maggiori, è nato, insomma, anni fa, ma è esploso il Movimento 5 Stelle, ricordo anche dei spettatori domani alle 14 qui studio Marcello De Vito, candidato sindaco del 5 Stelle, una delle prime apparizioni in tv a vostra disposizione, quelle dicono, si dice che è antipolitica, poi chi dice assolutamente il contrario, lei oggi porta qui una rabbia, una rabbia che ha radici nobili, ma insomma è la rabbia di un cittadino come ha ribadito che non ne può più. Allora, come guarda invece a quel movimento? Ma io trovo che questo movimento è una conseguenza logica della nostra politica, avete messo Napoleone che è il mio vero nome, ma non dovete guardarlo perché sulla carta di identità c'è Domenico Orsini. Quindi lo leviamo Napoleone perché sennò poi votano però non si annulla la scheda con Napoleone. No, basta che metto una croce per il futuro. vabbè già. Non posso lo sappiamo fare tutti. Va benissimo che sia venuta e viene dalla società civile, trovo che è giusto che ci sia, non pensi che si fa tutto cancellando tutto o come dico io scancellando tutto. Bisogna prendere quello che c'è, modernizzarlo, farlo marciare e dei nudi dire io cancello tutto e cambio tutto. È impossibile e quello che dicono non è veritiero. È impossibile cancellare tutto. Bisogna migliorare, cambiare, votare di nuovo ma queste sono le politiche. Eh, chissà. Queste sono le politiche e per quanto riguarda le elezioni di Roma le elezioni vanno bene così. Però non bisogna bisogna andare, bisogna che il cittadino ci aiuti a fare questo. Allora, le chiedo un'ultima cosa un candidato che al momento è candidato ma non si capisce se lo è anche perché trovate le mani non abbiamo in parte anche parlato. Alfio Marchini che è un altro che arriva da un mondo che i cittadini all'inizio dicono è molto lontano poi da la gente insomma i romani che stanno insomma sulle strade mi viene da dire. Poi Marchini insomma adesso sta facendo questa lunga campagna noi lo aspettiamo qui speriamo di averlo non si capisce ancora la collocazione però è un imprenditore insomma un grande imprenditore con una famiglia alle spalle insomma altolocata ricca eccetera che dice un po' come lei c'è un parallelismo dice basta io voglio fare qualcosa per la mia città come guarda a quel candidato un po' virtuale al momento ma ci sarà comunque sia ci sarà io non ho interessi personali su Roma interessi finanziari personali su Roma credo che Marchini abbia qualche interesse finanziario personali di lavoro quindi io non voterei qualcuno che con tutto che per carità stimabilissimo personaggio però ha degli interessi personali su Roma faceva il costruttore voglio dire suo nonno era forse il più famoso insieme agli armellini dei palazzinari anche se all'epoca forse quei palazzi erano meglio di quelli che fanno adesso questi nuovi immobiliaristi beh io mi devo fermare qua è stato molto interessante averla poi voglio dire una cosa guarda io Orsini cerco sempre di avere rapporto diretto trasparente insomma con i telespettatori da anni noi insomma a volte poi non riesco a dire le cose bene in diretta però conosciamo vediamo insomma anche politici o politicucci che per molto meno insomma se la tirano si dice a Roma io sono venuto di Lanzo ma l'ho salutata lei si è quasi messo sull'attenti veramente mi ha messo in imbarazzo questo per dire è un affatto di educazione lei è entrato in casa sua lo voglio dire e io sono venuto ospite lo voglio dire perché questo mi ha colpito insomma e niente tutto qua insomma una notazione finale le faccio in bocca al lupo per la sua campagna che seguiremo la aspettiamo magari a qualche confronto mi sembra di capire che lei non teme nessuno è pronto a qualsiasi confronto nessuno assolutamente nessuno stia tranquillo grazie domenico grazie a voi che ci avete seguito domani restiamo sul pezzo insomma quello delle elezioni faremo il possibile per farvi conoscere siamo quasi già vedete rispettiamo anche se non siamo ancora a regime di parcondicio il proprio la volontà di far conoscere il più possibile tutte le forze politiche da quelle più piccole a quelle più grandi la sigla delle primarie a sindaco e poi ci salutiamo qualche secondo prima della sigla invece di Dito la Roma 1 grazie a tutti